ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di questo canale siamo qui su farm simulator 22 nella bellissima mappa italia del land of italy per essere più precisi allora cosa è successo dall'ultimo gameplay beh devo dire che mi ha un po fregato la missione vi ricordavate avevo preso una missione qui in avvolgimento dovevo far balloni e portarli al consorzio il ballone di insilato allora cosa è successo dovevo finire dovevo terminare un 45 andane credo che dovesse risultare un altro diciamo cassone da 77 mila litri e invece purtroppo chiudendo avendo terminato la la missione diciamo avendola consegnato tutto quello che doveva essere consegnato uscendo dal gioco e poi rientrando lui me l'ha raccolta diciamo ecco mezzo raccolto per cui non ho più potuto continuare a raccogliere quello che mancava e così sono stato fregato per cui se qualcuno ha delle missioni bisogna finirle prima di chiudere il gameplay chiudere la partita e in modo che nel salvataggio non si generi questo errore ok comunque questo è quello che ho avanzato diciamo sono riuscito ad avanzare purtroppo non è granché sono per l'esattezza 55 mila litri per cui presumo che 7 7 47 14 21 siamo sui 200 210 mila euro litri scusate di insilato il che vuol dire che venduto al prezzo di 600 di raccolto 120 mila euro il terreno ne costa 180 per cui se io andassi a recuperarmi tutto il lavoro di una stagione per cui io vado a prendermi il terreno quando è proprio pronto pronto e mi faccio la prima raccolta già con una prima raccolta dovrei integrare molto bene per quanto mi riguarda l'acquisto ok come sembra prima di controllare con il gameplay io vi ricordo di iscrivervi al canale e pollicione in su dei milioni like commentate condividete giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi vi ricordo come sempre di lasciare un bel pass un segno del vostro passaggio diciamo un commento un saluto una faccina va bene qualsiasi cosa l'importante sia un effetto che si possa notare ecco e vi ringrazio abbiamo messo giù la serra questa sta producendo io direi di andare e lasciar perdere le semine di questo periodo perché purtroppo non ho una seminatrice adeguata io andrei semplicemente a seminare qualcosa che possa valere tipo i semi di soia a parte che devo ricordarmi di vendere assolutamente qualcosa che valga un bel po 1800 17 2008 2009 2009 anche l'avena paga bene anche la colza 3400 si sarebbe da tirar sulla colza perché vale molto di più dei semi di soia a quanto pare sì a quanto pare la colza per quanto possa essere 3003 però i semi di soia se guardate me li vende a 3000 4000 3000 4000 i girasoli però i girasoli sono già un po impegnativi da fare io direi di andare con la colza e allora a sto punto visto che è periodo di semina io direi di andar giù con colza dappertutto purtroppo l'unica cosa che non ho è una seminatrice e in più volevo fare anche la produzione adesso che ricordo l'avevo provata però purtroppo poi non ci ho più fatto nulla c'è la produzione di di semi e quant'altro da mettere giù io direi di di andarla vediamo se non ho sbagliato andarla a posizionare qua ok mi vado a posizionare la produzione qua perché purtroppo ho notato che sta mappa come sempre ha un non è che ha un limite è proprio non posso fare tanto scompiglio ecco e allora gestiamo un attimo quello che c'è senza troppo esagerare anche se come potete ben vedere devo fare purtroppo modifiche molto importanti però vanno fatte allora se io volessi togliere progettazione alberi vernice piante se io volessi provare a togliere ste piante poi dovrebbe dovrei riuscire a toglierle esatto così si tolgono allora piante mettiamo giusta erba si sa anche come sistemare la cosa magari potrebbe essere un obrobrio per qualcuno però ho proprio la necessità di fare sto lavoro qua secondo me ghiaia è più bella terra cemento fango animali no facciamo terra vediamo com'è uscita si bene qua dai si lasciamo così spaccato allora voglio adesso posso salvare allora vorrei piazzarla qua sperando di non far troppo danno sì sì qua devo restare così perché purtroppo se l'ho provata a mettere di qua ma è un po' grandina eh vabbè ci sta la lasciamo qua qua potrei verificare un attimo se posso esagerare ancora un po' sì dai può andare semi questa è quella giusta sì qua cosa c'è spazio esaurito ah bene siamo già questa si è già buggata allora metto un attimo in funzione quello che mi serve non so se anche qua mi servirà ma lo attiviamo e gli devo portare quello che dovrei vendere il frumento vabbè mi devo portare il frumento abbiamo un debito di 18 mila euro però dai bravo ovvio che non gli porterò tutto dov'è che si carica insieme qua comunque si grazie che mi avete fatto notare che si può scaricare anche a destra e a sinistra purtroppo è da una vita che non uso questi per cui vediamo cosa mi si qua va benissimo l'entrata molto bene che naturalmente l'avevo fatto l'ultimo scarico così ci sta si dovrebbe partire tutto qua si è bugata per cui grazie dobbiamo cambiare disattiva va bene proviamo no non proviamo niente perché devo 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 seminare però io ho delle core da vendere a sto punto io già cambierei un po il parco macchine e l'unica è farlo già adesso per cui ci rivediamo al negozio quando ho portato tutto quello che secondo me non serve e se invece vendo qua perché si può vendere anche qua volendo qua c'è un trigger farmi fare una prova 20.000 euro andiamo al negozio allora al negozio però io ho un piccolo problema perché mi ero acquistato questa ma questa non mi serve però me la tengo per il momento perché sembra che non ci siano i sassi non so confermatevi anche voi se se è vero che non ci sono i sassi su sta mappa si 20.004 mi danno lo stesso prezzo di casa per cui torniamo in farm allora mi voglio vendere la combinata qua allora ho sistemato un po di attrezzi andiamo a vendere tutto perfetto manca solo un'altra cosa in pratica ho venduto tutto perfetto credo di aver sistemato tutto tranne un cos questo anche questo c'è questo lo tengo gli animali eccolo qua perfetto e vendiamo anche questi in pratica adesso a me serve soltanto un trattore e una seminatrice perché i terreni sono a posto a parte il ph interessante allora nell'usato non c'è nulla trattori trattori allora pensavo di noleggiarmi questo case 250 cavalli che è l'ideale lo vado a noleggiare per 5.500 euro secondo me il noleggio è il migliore sistema per il momento una seminatrice da questa è una 6 metri ci sono delle seminatrici nuove interessante 9 metri bella questa però semina solo interessante 300 cavalli un po troppo come li ciuccia tutti se direi che possiamo 5.000 non è male questa questione orzo e colza se questi secondo me vanno già bene perché io ho tutti i terreni anzi fu colpibbio non ho tutti i terreni sistemati peccato perché era molto carina questa da provare perché non ho tutti i terreni coltivati questo è erato questo è erato ma questo no per cui andrei in penalità allora e ho gestito male forse un po' beh proviamo questo qua nuovo se voglio provarla a 220 siamo borderline però con gli cavalli se volevo qualcosa di più che si muovesse più velocemente visto no per quanto mi riguarda forse dobbiamo restare lì sì dai la noleggio e intanto partiamo con questo però questo invece me lo devo prendere ok allora intanto partiamo con che cosa beh non serve che posso andare in farm a grecarmi sì posso caricare da qua la calce perché visto che esatto poi adesso la ricompro ok possiamo uscire da qua da qualche parte sì sì molto bene ottimo partiamo subito col ph purtroppo non è la scelta giusta eh si fa sentire comunque anche con questo anche se è a 250 cavalli ma siamo borderline poi vorrei capire se riusciamo anche se riesco anche a sistemare un po' col tempo se vado avanti veloce mi produce qualcosa in velocità di semi e fertilizzante così vengo qua a caricare allora questi due terreni li ho terminati devo andare a fare l'altro che dovrebbe essere di qua e dai non è venuta male la zona lì allora mi dovrò fare un super debito poi per per comprare quel terreno lì ad erba e vedere magari se risolvo qualcosa che prenderlo adesso sicuramente non ne vale la pena perfetto adesso torniamo voglio vedere un attimo se produce qualcosa se vado avanti un po' si si produce e io vado a prendermi l'asseminatrice quella nuova del gioco dell'espansione premium platinum premium che ne so io sperando che si riesca a tirare perchè non è qua caspita sbaglio allora apri vediamo se ci sta molto bene benissimo allora proviamo a creargli il percorso vediamo cosa combina ok vai allora siamo già andati nel panico vediamo un attimo se si riesce a risolverla si va bene dai devo dire che per il momento si va anche bene vedo si 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 bella sta seminatrice qua mi piace eccellente sta falcon allora vabbè ci vorranno ci vorrà quel che ci vorrà poi poi farò io facciamo tre campi completamente a colza vediamo se riusciamo a ricavarne qualcosa poi devo andare avanti per forza e andrò a questo punto dovrei andare al periodo di 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 raccolta ma c'è l'erbaccia che mi frega per cui se no è un bel problema comunque lì quella curva lì vabbè poi sistemerò io vabbè io credo che ci vediamo appena ho terminato appena mi sono terminato la semina allora quasi terminato però meglio che sistemi un po' la faccenda devo dire che devo dire che ho fatto presto vabbè che il terreno è anche piccolino per quello non è che sia sto gran sto gran campo eh vabbè qua posso anche andare posso farlo anche io questo terreno così mi diverto un attimo vediamo se prendiamo un po' di velocità che poi c'è da salire devo dire che si adatta molto bene l'assimilatrice come potete vedere ai vari difetti del terreno vedete certo che questa da 9 sarebbe stata la sua la sua fine nel senso che sarebbe stata magnifica da 9 una combinata così da 6 non è niente male vedo che in salita si fa attirare siamo comunque sempre dentro il regime minimo volevo capire di la la testata no dai me l'ha fatta anche abbastanza bene allora qua non nascerà l'erbaccia ma nel 6 nel 6 si prevedo di si perchè il 6 non è stato arato e anche qua ho concluso voglio vedere se c'è qualcosa si vabbè ma niente che possa rovinare bene abbiamo finito chiudo salgo di qua così non vado neanche a caricarmi perchè tanto il fertilizzante non serve per anzi che serve vabbè pensavo di seminare semi di soia invece sto seminando colza vabbè poi qua facciamo un paio di andate nel senso che lo lavoro col cusplay questo facciamo netti 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 facciamo partire credo che andrò a caricarmi si poi eh sarà un problema vabbè dai vediamo come lo gestisce allora qua ci vorrà un po' che fare nel frattempo o mi faccio altre balle sbaraballe sbaraballe 41 fammi vedere il 41 dov'è eccolo qua potrei fare anche il 41 sempre a missione di insilato così metto via un po' di insilato però stavolta non mi faccio fregare questa anche 9000 porta no volta fieno volgi le balle posso farmi questa e ottenere insilati posso farmi anche questa vabbè intanto andiamo sul 41 finché questo va avanti io mi prendo questa e vado sul 41 ecco l'unico punto è che non devo consegnare ma conviene finire tutto allora qui come sta andando bene però questo ha 930 cavallini no ma andiamo andiamo a trebbiare ah si trebbiare scusate andiamo a raccogliere l'imballatrice è sempre la solita e io arrivo qua subito con l'andini a portarmi via i balloni però mi serve il cassone cassone che forse non ho più esatto perché l'avevo preso a noleggio ok allora credo che poi mi farò me ne farò un'altra secondo me di missione sempre così che in pratica man mano che accumulo accumulo un po' di insilato che poi andrò a vendere nel frattempo qua nel frattempo qua sta andando benissimo io però credo che tra un po' mi fermo qui come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto è gratuito non vi costa nulla è un attimo del vostro tempo e vi ringrazio lasciate un bel pollicione in su che andiamo avanti qui mi piace the million like commentate giù in iscrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio commentate come sempre lasciate un bel saluto un passaggio un segno che siete spassati una faccina e vi ringrazio per me è molto importante e ringrazio come sempre chi lo sta facendo questa qua sul 26 che è sempre insilato gli dico di accettare il contratto che mi tengo questo però purtroppo non so se posso farlo adesso dopo poi mi dice che devo fare tutto su un colpo solo e naturalmente questo è più piccolo ne escono meno però dai bene ottimo ok già 44.000 litri comunque io credo che per il momento mi fermo qui vi ringrazio per essere qui in mia compagnia vi do appuntamento al prossimo gameplay ciao a tutti grazie e alla prossima ciao 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 ciao